Il match che segue è un Last Man Standing Ed è per il titolo X3 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 perdere il titolo dopo veramente veramente tantissimo tempo non ricordo nemmeno l'ultimo non ricordo neanche contro chi l'avesse vinto quanti avversari abbiano sfidato bobby blackwell per il titolo fino ad ora perché veramente la lista veramente ma veramente lunga e attenzione intanto ancora bobby blackwell prende wolf ancora running power slam ne ha messi in serie veramente tante e adesso attenzione intanto prova una presa, vediamo che wolf evita scaraventa con un backwood drop bobby blackwell ancora viene realizzato bobby blackwell ma connette con una spallata e ora viene realizzato wolf attenzione bobby blackwell blackwell da parte di bobby blackwell che ora in realtà ancora wolf vuole ancora infierire attenzione intanto bobby blackwell bobby blackwell bobby blackwell bobby blackwell wolf si rialza subito come se non avessi sentita intanto super kick da parte di bobby blackwell intanto l'arbitro va a conteggio sullo conto di uno mamma mia ancora vediamo questa sorta di backbreaker da parte di bobby blackwell si rialza wolf attenzione ma bobby blackwell è lì ancora questa backbreaker l'arbitro va a contare wolf a terra ma si rialza subito ancora troppo presto per concludere questo match vediamo che bobby blackwell forse si carica attenzione prova una un lariat ma viene parato intanto 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 uuuuuuu tortu rake backbreaker da parte di bobby blackwell ancora bobby blackwell con queste mosse da giudecca questo giro della morte ancora provo un drop che viene evitato attenzione wolf vediamo che lo vuole fare diamo wolf che prende bobby blackwell e lo scaraventa via con questa ambar ancora bobby blackwell ora al terreno diamo intanto pausa intanto un piccolo errore attenzione intanto bobby blackwell che è a terra sconto di tre da parte dell'arbitro quattro ma rientra wolf con una sedia attenzione va a prende la sedia uuuu più sediate sulla schiena ancora sediate sulla schiena da parte di wolf che non vuole fermarsi vediamo che ora attenzione intanto wolf 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 stop out of nowhere e l'arbitro va a contare uno due no si li alta il conto di due ma incredibilmente bobby blackwell pazzesco quello che stiamo vedendo qui alla royal rumble i due sembrano fatti di carta piste intanto bobby blackwell che va a prendere la sedia che aveva recentemente la sedia wolf sul ring wolf che ora va a prendere qualcosa ma bobby blackwell arriva come una faina attenzione attenzione uuuu però wolf arriva prima con la mazza i due incominciano con una riscia da strada che era già annunciata ancora vediamo che però wolf prende bobby blackwell lo lancia sulle barricate attenzione tutto pronto tutto pronto no bobby blackwell evita il calcione allo stomaco vediamo ancora bobby blackwell che prova una presa ma wolf evita ancora attenzione serie di pugni da parte di bobby blackwell che ora spinge a sua volta wolf sulle barricate attenzione bobby blackwell tutto pronto lo prende spiar in arrivo e rompe le barricate attenzione colpo di scena qui alla royal rumble colpo di scena qui wolf è a terra vedremo se l'arbitro andrà a contare attenzione uno ma non ci sta vuole ancora infierire bobby blackwell vuole ancora continuare e ora sistema il tavolo dei commentatori anche lui attenzione spiar out no where da parte di wolf spiar out no where vediamo che ora wolf rialza bobby blackwell lo prende lo butta al tavolo dei commentatori ma inciampa sullo spigolo bobby blackwell e ora wolf lo rialza molto probabilmente vorrà spaccare il tavolo con lui sopra attenzione intanto wolf eccolo mi ha anticipato prende bobby blackwell attenzione lo rialza vediamo wolf attenzione salita del sol sul tolo dei commentatori che va in frantumi e attenzione l'arbitro qui dovevi cominciare a contare ma non conta incredibilmente non conta l'arbitro bobby blackwell ora è a terra l'arbitro non vuole contare che sia magari una presa di posizione da parte di wolf non lo so tanto wolf va a prendere un tavolo vediamo che scaraventa anche l'arbitro non lo so se c'è tanto bobby blackwell ragazzi è a terra e ora si rialza ora però doveva contare l'arbitro attenzione ancora vediamo che bobby blackwell prende intanto viene evitata una presa attenzione ancora cockbreaker da parte di wolf che ora viene rialzato attenzione vediamo bobby blackwell che però evita la presa e ora vediamo cosa succede attenzione bobby blackwell prende prende wolf attenzione uuuuh sorta di package bella questa package driver da parte di bobby blackwell attenzione ancora sorta di pugni da parte di bobby blackwell ma wolf evita attenzione uuuuh una carana da parte di wolf andiamo che l'arbitro va a contare ma bobby blackwell si rialza subito ne hanno ancora non so come facciano a stare ancora in piedi attenzione intanto bobby blackwell che prende wolf l'accompagna verso il tavolo che aveva aperto wolf attenzione bobby blackwell prova attenzione è tutto pronto shock slam shock slam e il tavolo va in franzumi attenzione qui l'arbitro potrebbe contare uno si rialza subito però si rialza subito wolf incredibile quello che stiamo vedendo qui la royal rumble cioè veramente i due sembrano fa di carta festa attenzione uuuuh bella questa power slam da parte bobby blackwell che ora rialza ancora wolf vediamo che ributta sul ring wolf vediamo bobby blackwell che prende attenzione rialza attenzione black hole black hole black hole in conto di uno due questa qua forse alla fine tre no si rialza wolf incredibilmente mamma mia cosa stiamo vedendo ancora bobby blackwell che prende wolf lo sbatte all'angolo attenzione vediamo bobby blackwell lo carica sulla terza corda è tutta pronta attenzione forse un superplex verso l'esterno forse un superplex verso l'esterno attenzione vediamo bobby blackwell e va a rompere il tavolo dei commentatori attenzione qui potrebbe esserci veramente la fine attenzione ma l'arbitro incredibilmente non va a contare anzi esce ora dal ring che va a contare attenzione uno due ci rialza subito ancora wolf mamma mia incredibile se il gatto ha sette vite il lupo penso ne abbia quarantamila perché è veramente una roba incredibile quello che stiamo vedendo qui la rama l'azione intanto sbaglia wolf poi blackwell lo prende lo carica e forse andrà per una milita di press infatti va così milita di press ora vediamo che l'arbitro va a contare siamo a due ma si rialza ancora wolf ve l'ho detto che ha quarantamila vite vediamo che ancora bobby blackwell arranca wolf lo spinge all'angolo vediamo che prova una serie di pugni per cercare di qui di stordire l'avversario eccolo qui all'interno intanto ora in me da parte di bobby black l'arbitro va a contare siamo a due ma si rialza ancora wolf e non vuole saperne di perdere ancora vediamo che bobby blackwell prende ma wolf evita attenzione wolf prende uh tiger suplex no ancora attenzione ancora uh tiger suplex e poi brainbuster conto di uno da perdere l'arbitro due vediamo che prova bobby blackwell si rialza subito vediamo ancora wolf che prova un calcio viene evitato da bobby blackwell attenzione bobby blackwell che prende attenzione lo prende ancora uh bella questa mossa da parte bobby blackwell tanto wolf si rialza ancora sembra quasi che si sia incantato il disco da quante volte l'ho detto intanto spinge le corde wolf bobby blackwell ma bobby blackwell evita provo un volo evita da bobby blackwell attenzione vediamo che bobby blackwell viene rialzato ancora da wolf ancora mossa lì giudecca vediamo che ora voi blackwell butta le corde fuori dal ring wolf vediamo che lo vuole fare attenzione tutto pronto sono sull'apron i due qui si fanno male attenzione sull'apron sull'apron veramente attenzione l'arbitro però non va a contare vediamo non so perché ancora l'arbitro è dentro il ring ma non conta non conta e non si capisce perché martini lascia lì a casa anzioni intanto provo una cosa bobby blackwell ancora wolf evita terza wolf backstabber da dietro e ora va al conteggio uno due tre attenzione c'è una cosa di tre per bobby blackwell quattro cinque sei l'attenzione potrebbe essere la fine sette attenzione siamo a sette otto l'attenzione potrebbe essere finita nove attenzione uh no si riazza a nove attenzione incredibile quello che abbiamo visto nella rumble wolf è andato veramente vicino a vincere l'extreme title vediamo che ora prova un colpo ma boy blackwell evita attenzione boy blackwell prende black hole out nowhere black hole out nowhere e attenzione l'arbitro incomincia no si riazza ancora wolf attenzione vediamo che l'arbitro era a terra quindi non poteva contare attenzione intanto torture rake torture rake bomb da parte di bobby blackwell ancora viene rialzato e bobby blackwell attenzione bobby package bobby package da parte di di ma si riazza ancora wolf no vabbè è incredibile è incredibile quello che stiamo vedendo ancora intanto angle slam da parte bobby blackwell intanto l'arbitro raccontare ma si riazza ancora wolf non lo vuole sapere ancora vediamo che boy blackwell prende e butta all'angolo wolf vediamo che prende ancora scaraventa via vediamo che ora wolf è a terra siamo al ponte di 2 3 3 4 ma si riazza ancora wolf attenzione vediamo che ora ha preso ancora l'aria in volo per wolf su bobby blackwell attenzione intanto wolf vediamo che prende bobby blackwell uh bella questa mossa questa sorta di driver da parte di wolf che ora va fuori dal ring e dando conto di 2 da parte dell'arbitro attenzione ancora vediamo che siamo al 4 da parte di bobby blackwell si riazza ora al 5 vediamo che ora wolf va a prendere un tavolo li butta sul ring vediamo che ora va a prendere ancora qualcos'altro bobby blackwell esce dal ring attenzione intanto bobby blackwell la branca prima che potesse prendere qualcos'altro attenzione bobby blackwell prova una presa ma viene evitata da wolf now wolf spear out nowhere non lo trova a contare 1 2 3 4 4 si rialza ora al 4 ancora bobby blackwell invita intanto li entra sul ring con wolf che al tavolo e arriva con un treno ravalta anche l'arbitro questo potrebbe essere un fattore negativo per un eventuale conteggio il match dovrebbe essere attenzione intanto wolf che rialza bobby blackwell vediamo che lo voleva fare ancora vediamo bobby blackwell no prova nel swift ritorno ma wolf evita e ora wolf vediamo che prende attenzione se lo carica tutto pronto attenzione king of swing da parte di wolf incominciano i giri incomincia la danza vediamo che incomincia a girare come una trottola vediamo se riuscirà a lanciarlo sul tavolo lo becca di striscio attenzione intanto l'arbitro prova il conteggio ma bobby blackwell si rialza subito ancora cockbreaker da parte di wolf attenzione ma si rialza ancora bobby blackwell match infinito veramente non sembra finire mai attenzione intanto bobby blackwell è in goal slam da parte di bobby blackwell conto di uno da parte dell'arbitro due tre quattro cinque cinque sei attenzione sette potrebbe essere la fine otto attenzione nove attenzione potrebbe essere il finito che ora bobby blackwell pone dal ring e wolf intanto apre un altro tavolo apre un altro tavolo vediamo ora ancora wolf che rialza bobby blackwell ma bobby blackwell evita lo riputa sul ring attenzione attenzione vediamo che ora bobby blackwell attende che wolf si rialzi vediamo cosa ha in mente attenzione prende throwback da dietro da parte di bobby blackwell wolf si rialza attenzione intanto prova un pugno viene evitato da wolf vediamo wolf che prova una presa viene evitato da bobby blackwell vediamo bobby blackwell attenzione vediamo che cosa vuole fare la branca attenzione bobby blackwell mossa di giudecca da parte di bobby blackwell e ancora vediamo che prova una presa viene evitato da parte di wolf ancora viene rialzato ma ancora viene portata la presa da bobby blackwell vediamo ora bobby blackwell che prova ancora ma wolf evita attenzione vediamo cosa vuole fare wolf bobby blackwell ha le corde attenzione lo prende e lo lancia fuori dal ring sul tavolo non va in frontumi ma questo comunque l'ha sentita ora l'abitro va a contare uno e si rialza subito però bobby blackwell evidentemente il colpo in caso di striscio fortunatamente per lui vediamo ora bobby blackwell che prova un super kick va a vuoto attenzione intanto spinning kick da parte di wolf ma ancora bobby blackwell che prende ancora wolf ma viene evitata la presa ancora wolf attenzione uuuuuh salita del sol da parte di wolf e attenzione però bobby blackwell si rialza ancora vediamo che prova un light va a caso però attenzione in qualche modo riesce a prenderlo all'angolo attenzione viene soprattutto belli to belli suplex da parte di bobby blackwell andiamo ora che wolf è a terra fermo il punto di tre quattro cinque attenzione sei sette no viene rialzato ancora wolf si rialza ancora neanche ancora attenzione vediamo che prende e viene spottuto no attenzione ancora le swift di ritorno da parte di bobby blackwell vediamo che bobby blackwell prende e prova un colpo attenzione intanto wolf a reazione ma bobby blackwell evita gli tira un cartone in testa ancora bobby blackwell vediamo che lo vuole fare vediamo che prende ancora trovate da parte di bobby blackwell ancora trovate che vediamo che prova wolf si di alta attenzione prova una presa va a caso attenzione intanto uuuu ancora uuuu questa sorta di cross rotta in corsa da parte di wolf siamo al conto di due vediamo tre e intanto wolf si elogia siamo al conto di quattro per bobby blackwell al cinque si di alta ancora vediamo che prova una storia di pugni attenzione intanto bobby blackwell lo prende e lo sbatta a terra in questa bella mossa e ancora anche bobby blackwell si carica in questo balletto attenzione intanto wolf ancora spin and kick no che prova una presa ma viene intanto da parte bobby blackwell bobby blackwell arriva attenzione uuuu bella questa mossa ancora andiamo che i due ora viene lanciato wolf attenzione intanto mossa aerea attenzione la branca tutto pronto chocslem chocslem in volo ma viene riazzato subito wolf attenzione vediamo che ora bobby blackwell prende lancia verso l'apron bobby blackwell attenzione cosa vediamo di fare attenzione dall'esterno all'interno una super power si scusate una super suplex mamma mia attenzione intanto vediamo che è il conto di uno due tre ma si rialza ancora wolf vediamo che ora prova ma ancora un lariat in volo da parte di wolf che ora rialza ancora bobby blackwell attenzione prova una presa bobby blackwell evita vediamo ora bobby blackwell prova un calcio ma wolf evita no ancora viene evitata la presa attenzione bobby blackwell che prende tutto pronto attenzione ancora face face driver da parte di bobby blackwell che ora viene rialza wolf attenzione vediamo che lo vuole fare ehm tortu rake bomb da parte di bobby blackwell ancora vediamo che ora ehm wolf è ancora lì attenzione vediamo ora bobby blackwell che prende lancia le corde wolf attenzione ancora lo prende ancora in volo ancora chokeslam che va a segno vediamo ora come va a finire due no solo consigliata subito wolf attenzione vediamo bobby blackwell che ora lancia ancora wolf ehm alle corde ancora wolf vediamo cosa vuole fare attenzione ancora ehm running cross road da parte di wolf attenzione uno due tre quattro quattro per bobby blackwell che ora a terra attenzione momento concitato cinque sei sette otto no l'otto si di out bobby blackwell vediamo che allora prova una presa ehm bobby blackwell attenzione lo spinge le corde ancora bobby blackwell vediamo cosa vuole fare ancora sorta di pugni da parte ehm di bobby blackwell che ha le corde ora vediamo preso attenzione viene in contatto fuori dalla riga wolf vediamo bobby blackwell che ora branca è ancora dall'esterno all'interno tutto pronto per questa suplex che va a segno attenzione uno conto per wolf uno attenzione però bobby blackwell sembra non fregare della scaraventa via sembra nervoso bobby blackwell a causa della durata estugnante di questo match che ormai ha superato l'avventura abbondante attenzione intanto ancora bobby blackwell uh belly to belly della terza corda invita ancora wolf a rialtarsi ancora va a vuoto però e bobby blackwell attenzione intanto però bobby blackwell eh attenzione vediamo cosa vuole fare sbaglia la powerbomb invertita da wolf attenzione wolf che qui potrebbe avere un grosso vantaggio attenzione ancora facebuster a terra da parte di di wolf e ora vediamo cosa vuole fare prende uh attenzione uh bella questa mostra da parte di wolf questa certa di leg drop eh sullo stomaco ancora vediamo wolf attenzione wolf stop che va a segno e contro di uno ha detto no si rialza subito incredibile si rialza subito bobby blackwell ancora vediamo che viene buttato all'angolo no da parte di wolf che ora rialza ancora bobby blackwell vediamo cosa vuole fare attenzione wolf vediamo che prende bobby blackwell eh lo lancia lo lancia lo lancia le corde vediamo cosa vuole fare ancora vediamo che prende però wolf va con la ring ancora bobby blackwell pugno no ancora wolf prende volo ma attenzione va direttamente a caso va completamente a caso e ora vediamo cosa vuole fare bobby blackwell che rialza wolf attenzione lo abbranca vediamo cosa vuole fare sorta di pugni pugnaccio da parte di bobby blackwell conto di due intanto sviata ancora attenzione prova una presa viene evitata intanto super kick da parte di wolf attenzione 1 no viene ancora ehm preso bobby blackwell vediamo cosa vuole fare ehm wolf che lo tutta via tutta barra siamo 1 2 3 no viene rialzato ancora bobby blackwell da wolf attenzione attenzione prova una presa viene evitata attenzione qui a bobby blackwell che prende ancora ehm giro della morte da parte di bobby blackwell e attenzione vediamo cosa vuole fare wolf a caso attenzione è tutto pronto bobby blackwell lo prende e attenzione uuuu super bomb da parte di bobby blackwell mossa veramente veramente devastante questa sorda di jackknife però wolf si rialza ancora attenzione bobby blackwell testata ma super kick ancora da parte di wolf vediamo che ora viene rialzata ancora bobby blackwell prende attenzione intanto ginocchiata e attenzione paymaster da parte ehm di wolf su bobby blackwell vediamo ancora ehm sviata però bobby blackwell vediamo che ancora ehm viene scaraventato a terra da wolf ancora bobby blackwell vediamo che prende ancora però che è un'altra cosa da parte di wolf su bobby blackwell ancora va il conteggio ma si rialza ancora bobby blackwell attenzione vediamo che ehm viene preparata la presa da wolf che aveva provato il precedente bobby blackwell non ha rischio di ritorno ancora prova un pugno viene evitato da bobby blackwell sterebobby blackwell ancora torta un rakebomb che va a segno attenzione vediamo che ora bobby blackwell prende ancora attenzione blackwell out of nowhere blackwell out of nowhere sotto di uno ma si rialza ancora incredibilmente un wolf ma mia c'è estenuante veramente estenuante questo match veramente estenuante vediamo che ora prova wolf un volo va completamente a casa bobby blackwell lo prende ma attenzione una carana da parte di wolf molto bene subita vediamo che ora è all'angolo bobby blackwell però wolf vediamo che lo vuole fare attenzione lo prende crossroads da parte di wolf attenzione conto di uno da parte di bobby blackwell due si rialza subito attenzione intanto ancora zig zag da parte di wolf attenzione conto di uno due tre quattro cinque sei attenzione sette otto nove attenzione potrebbe essere una fine bobby blackwell si rialza a nove colpo di scena ancora è ancora in vita il match va ancora avanti mamma mia stremati due attenzione intanto vediamo che uh bobby blackwell ginocchiata su wolf ancora vediamo bobby blackwell cosa vuole fare vediamo che intanto l'arbitro va a sincerare le condizioni di wolf che è conto di tre quattro cinque attenzione vediamo che prende committata l'ariat da parte di bobby blackwell che ora lo vuole fare fa sedere wolf se ne provo calzone wolf evita attenzione vediamo wolf che prende flashback flashback da parte di wolf massigliata subito bobby blackwell attenzione vediamo che intanto bobby blackwell prova una serie di pugni attenzione però viene parata da wolf attenzione wolf ruggiti i due sono a terra i due sono tutti due a terra bobby blackwell si alza subito però attenzione wolf sembra essere attenzione first thump first punch da parte di bobby blackwell vediamo che ancora il match va avanti ancora vediamo che ora bobby blackwell butta fuori dal ring wolf ancora sono sull'up attenzione prova attenzione vediamo che vuole fare bobby blackwell che sono sull'apron e lo prende lo scaramento però spot sul tavolo che va in frontumi incredibile incredibile quello che stiamo vedendo attenzione vediamo che l'arbitro va ancora a contare ma wolf si diazza ancora vediamo che ora eh voglio rientrare sul ring ma ancora un pugno da parte di bobby blackwell che veramente i due sono veramente ma veramente estremati attenzione intanto sulle barricate ehm e bobby blackwell prova ma viene evitato la presa attenzione bobby blackwell che prende ancora prova ma wolf evita attenzione ancora wolf prova ma ancora bobby blackwell evita attenzione bobby blackwell che prende lancia addosso ai gradoni wolf e ora una serie di pugni di calcio da parte di bobby blackwell vediamo che però prova una presa viene evitata da parte di wolf vediamo wolf cosa vuole fare attenzione viene delzato viene buttato addosso alle barricate vediamo wolf che prende appoggia alle barricate bobby blackwell si dirige verso l'apron attenzione vediamo cosa vuole fare si carica col pubblico attenzione tutto pronto sembra poter volare spinning kick mamma mia questa l'ha sentita con i blackwell attenzione è conto di uno due ci rialza però subito bobby blackwell ancora vediamo che il match va avanti attenzione ancora un pugno da parte di bobby blackwell di wolf due rientri sul ring attenzione vediamo che prova ancora massa di agilità e ancora concludo con questo interpugno wolf a terra si vede che è stanco si vede che è molto molto stanco attenzione vediamo ora bobby blackwell che ha le corde prova una presa viene evitata da parte di wolf ancora vediamo bobby blackwell che ora però è evitata attenzione wolf va al volo completamente a vuoto da parte di wolf ora vediamo che bobby blackwell prende scaraventa le corde wolf attenzione lo prende lo lancia fuori dal ring attenzione sembra tutto pronto vediamo cosa vuole fare cos'è in mente bobby blackwell vediamo cosa ha in mente attenzione i due sono fuori dal ring vediamo che bobby blackwell prende si carica con una powerbomb sull'op room e questa signori l'ha sentita e questa l'ha sentita attenzione vediamo che ora bobby blackwell rientra sul ring vediamo che bobby blackwell rientra sul ring vediamo che bobby blackwell rientra sul ring incredibile il match va ancora avanti sembra non voler terminare mai questo match ancora vediamo che ora bobby blackwell prende ancora wolf lo lancia le corde attenzione vediamo bobby blackwell cosa vuole fare prende attenzione ancora la zona è l'area fuori dal ring attenzione vediamo bobby blackwell che prende prende la rinforza e vola vola su wolf bobby blackwell incredibile e ora rientra ancora sul ring rientra ancora sul ring attenzione va sulla terza corda non so cosa voglia fare tanto l'arbitro non va a contare non riesce a capire il perché attenzione ci va ora vediamo uno due no si rialza ancora si rialza ancora wolf attenzione vediamo che ora rientra sul ring wolf prova ancora una presa ancora bobby blackwell lancia fuori dal ring vediamo cosa vuole fare ancora prova una presa viene evitata da wolf attenzione wolf prova il volo provano una carana va a vuoto va a vuoto va a vuoto questa ora carana ora vediamo che si rialza wolf ma arriva attenzione sbaglia tutto nooo tornato tutti ti in corsa incredibile incredibile quello che stiamo vedendo vediamo ancora wolf che ora rialza bobby blackwell lo prende no viene evitata la presa da parte di bobby blackwell ora bobby blackwell che lo prende attenzione bella questa powerslame da parte di di bobby blackwell vediamo cosa vuole fare vediamo cosa vuole fare attenzione ancora vediamo che e viene preso wolf attenzione wolf attenzione wolf la schiena attenzione crossroad da parte di wolf e ora bobby blackwell a terra ma si rialza subito al campo di uno attenzione ancora vediamo che bobby blackwell è lì attenzione prende ora wolf vediamo che lo riprende attenzione uh next break da parte di bobby blackwell che ora rialza eh wolf vediamo cosa vuole fare attenzione tutto bobby blackwell è lì attenzione lo abbranca ma vediamo cosa vuole fare attenzione lo prende per le gambe e lo sbatte a terra e poi conclude con questa ginocchiata in tempo di gli arti inferiori vediamo intanto che eh bobby blackwell attene che vol si rialza attenzione lo prende attenzione tutto pronto bobby package bobby package bobby package ma si rialza subito wolf no vabbè io non me ne vado ragazzi ditemi quando è finito questo match perchè è veramente incredibile intanto mi fu una cicca perchè dopo quasi 35 minuti di match veramente sembra non voler finire più ancora vediamo bobby blackwell ora guardate intanto bobby blackwell che prende sono belli tu belli all'indietro sorta di german su che il match va ancora avanti mi sembra veramente finire mai attenzione intanto ancora super kick kick in the guri da parte di wolf scusate se mi sono fumato un attimo una cicchetta ma portate patente vediamo intanto ancora wolf che sbatte attenzione prova su di star press ma va completamente a vuoto intanto vediamo che viene rialzato eh eh attenzione va dall'altra parte delle barricate bobby blackwell non ce la fa veramente più ancora vediamo che uuuuuh spear out nowhere da parte di wolf intanto va al conteggio uno due tre si rialza subito bobby blackwell ancora vediamo che ora wolf sbatta le barricate bobby blackwell ancora attenzione tutto pronto prende la carica attenzione spear e rompe la barricata spear e rompe la barricata attenzione 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 vediamo che ora bobby blackwell a terra uno due no si rialza il conto di due bobby blackwell la fatica incredibile questo match che va ancora avanti attenzione intanto ancora zig zag da parte di wolf e ora vediamo che eh viene rialzato ricordiamo che questo era il match per l'extreme title e diremo wolf che sta portando veramente all'estremo proprio blackwell riuscirà a vincere questo match intanto ancora rocket kick da parte di wolf solo contro di due ancora vediamo wolf che va a prendere un tavolo va completamente a vuoto attenzione intanto bobby blackwell arriva ma sbaglia tutto wolf ora al tavolo e dello spazio in faccia vediamo che è solo contro di uno attenzione vediamo che wolf ora apre il tavolo bobby blackwell però è lì attenzione bobby blackwell prova una presa wolf evita ancora wolf prova ancora una presa ma bobby blackwell evita attenzione lo abbranca vediamo cosa vuole fare il tavolo è lì attenzione lo butta al tavolo attenzione bobby blackwell vediamo cosa vuole fare lo prende attenzione è tutto pronto choclam sul tavolo che va in frontumi laio deve contare conto di uno due tre quattro no aveva siliata al quattro incredibilmente wolf ancora bobby blackwell vediamo che abbranca wolf lo lancia verso le barricate attenzione è ancora tutto pronto sembra pronto spearing arriva rompe la barricata rompe ancora la barricata incredibile incredibile e ora wolf è a terra stremato stando conto di uno a parte dell'arbitro due tre quattro si rialza ancora wolf incredibile incredibile ancora vediamo che bobby blackwell rialza wolf ma viene evitando la presa da parte di wolf attenzione wolf super kick che va a segno uno due tre e blackwell ora a terra quattro cinque sei attenzione si rialza il sei poi blackwell attenzione vediamo che ora viene riputato sul nooo sull'up sul paletto di sostegno del ring ma è stata incredibile da parte di wolf vediamo che ora a terra l'arbitro va al conteggio siamo ora al cinque sei sette otto attenzione 9 attenzione vediamo che si rialza 9 però bobby blackwell rampa come una faina attenzione ancora bobby blackwell prova una mossa agli arti vediamo uh ancora ginocchiata sulle gambe e ora vediamo che va al conteggio l'arbitro ma bobby blackwell non c'è la non ci sta ancora va a impedire sulle gambe il povero wolf vediamo ancora questa leg di t da parte di bobby blackwell che ora vediamo che wolf è a terra bobby blackwell apre no wolf evita la presa attenzione vediamo che wolf rialza bobby blackwell lo prende lo butta lo scende barricade attenzione prova una presa ma bobby blackwell evita attenzione bobby blackwell no viene evitato la presa viene evitato la presa da parte di bobby blackwell cazzo del conteggio 1,2,3,4,5,6,7,8 attenzione potrebbe essere la fine 9 attenzione bobby blackwell però scelta attenzione sotto di 9 è ancora in piedi attenzione vediamo che wolf va evita e va a caso scusate attenzione bobby blackwell prova una presa viene in tante ore da wolf vediamo wolf cosa vuole fare attenzione wolf mosse attenzione ancora bella questa mossa da parte di wolf ancora rialza ancora bobby blackwell attenzione prova un calcio bobby blackwell evita attenzione bobby blackwell che abbranca ancora mossa di judo da parte di bobby blackwell vediamo che ora bobby blackwell prende lancia lascia l'apron wolf attenzione vediamo che viene rialzato ancora viene preso vediamo dove vuole dove viene portato attenzione no intanto vediamo che viene parata attenzione intanto prova un calcio viene evitato attenzione vediamo bobby blackwell che ora dove porta wolf attenzione lo prende ancora viene evitato riesce a parata ad uscire wolf dalla presa attenzione wolf vediamo che lo vuole fare prende bobby blackwell attenzione vediamo che lo vuole portare in giro attenzione powerbomb si intera doni attenzione questa l'ha sentita attenzione uno no si rialza subito bobby blackwell attenzione vediamo wolf spear out nowhere spear out nowhere ma si rialza bobby blackwell ma wolf è lì attenzione poi una presa e bobby blackwell evita ancora vediamo che prova ma wolf evita ancora vediamo wolf ancora prova una presa ma bobby blackwell evita attenzione bobby blackwell spear sull'apron e vediamo che ora attende che wolf si rialzi vediamo ora bobby blackwell attenzione sembra essere tutto pronto per qualcosa attenzione uh bella questa mossa da parte di bobby blackwell vediamo che ora siamo a conteggio di due tre quattro cinque sei attenzione potrebbe essere la fine sette potrebbe essere la fine di questo match poi black potrebbe essere ancora campione otto nove attenzione potrebbe essere la fine e dieci signori bobby blackwell è il vincitore di questo match e resta campione del extreme dell'IWF e allora lo vediamo qui dopo un estenuante match di quasi un'ora incredibile questo last match standing match vediamo che bobby blackwell prende la sua cintura nessuno ancora l'ha fermato incredibile questo match alla royal rumble io vi saluto e vi do appuntamento all'ultimo match di questa sera valevole per il dba title tra catastrofi e tigerman intanto eccolo qua extreme rush che è finito